La delegazione biellesi in questi giorni è a Roma per il pellegrinaggio del 250esimo anniversario di Costituzione della Diocesi di Biella ed è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco che nel salutarla si è rivolto agli ospiti biellesi con grande cordialità e scherzosamente addetto. Benvenuti ai pellegrini di lingua italiana, in particolare saluto i fedeli di Biella che accompagnati dal loro vescovo ricordano il 250esimo anniversario della fondazione della Diocesi. Questi biellesi non è facile capire, ci vogliono 7 anni e 7 mesi per capire e poi alla fine non si capiscono mai. Benvenuti a biellesi. Ieri sera poi la delegazione ha seguito la Santa Messa, trasmessa in diretta da Reteviella e Televiella, preseduta dal Cardinale Gian Battista Re e celebrata nella Basilica dei 12 Apostoli.